buongiorno dal team Martinelli Remax della Polare io sono Alessio oggi vi porto a Iabigia quartiere in forte espansione siamo precisamente in via tenente Sulla a due passi dall'ipercov dalla regione Puglia e vi mostreremo un bellissimo appartamento sito al primo piano di recente costruzione anno 2014 seguitemi venite con me grazie a tutti Oh, you're so amazing, you make me feel alright The temperatures rising, take me for a ride Oh, you're so amazing, we got the chemistry Regular highs when you give me ecstasy, yeah Just me, I'm so young, I'm so young Oggi vi abbiamo mostrato un Trevani in ottime condizioni Un immobile con dei bellissimi balconi vivibili Che potrete attrezzare e grazie a queste tende da sole Vivere durante l'estate, la primavera A completare la proprietà c'è anche un posto auto Io sono sicuro che questo immobile non durerà molto sul mercato Quindi chiamateci All the time 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 All the time